Allora, rappresentiamo il regista del film Apapol, spero di pronunciarlo in un modo decoroso, Oscar Victor Laghi, specificando che si tratta di un film di diploma. Abbiamo un gruppo molto piccolo, ma tutti erano professionisti, esattamente il mio cinematografico che era il mio classmate all'università. Lo ha fatto con l'aiuto del media e anche dell'università, però l'equipo di Preser adizionarono tutti dei professionisti. Dovessi rifare il film oggi, visto che ormai sono a mezzo di anni in film, lo faresti in lo stesso modo o lo faresti in un altro modo? Sì, se avessi la possibilità di farlo di nuovo, saremmo di farlo completamente diverso. Perché dovrei farlo di nuovo? Grazie. 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 Grazie.